Ahoy cari pirati, questo video sarà importantissimo per l'enigma di DeMarco. Purtroppo è pieno veramente di un sacco di cose succose e affronterò questo video come se fosse un flusso di coscienza. So che siete abituati ai miei video ordinati, ma raga, tenetevi forte e allacciate le cinture. Un po' di contesto. Giorni fa sui vari social della Rare sono apparsi strani codici, appaiono in immagini e video e sono abbastanza nascosti. Su Facebook poi compare l'immagine di un forziere dell'arena chiuso. La community internazionale trova frammenti di due oggetti circolari e entrambi riportanti lettere e numeri lungo la circonferenza. Ebbene, sono abbastanza convinto che se sovrapposti e ricomposti si possa ottenere un cifrario, uno strumento utile per creare chiavi di criptazione e di conseguenza messaggi criptati. La stessa tecnologia ha permesso lo sviluppo dei nostri PC, perché Alan Turing creò il primo computer per contrastare appunto una macchina cifratrice, la macchina Enigma, ideata dai nazisti. Ebbene, Enigma usa la stessa tecnologia, un cifrario. In qualche modo qualcosa dalla community è stato fatto, perché la Rare, oggi, ha avvisato che un baule è stato aperto, e quel baule contiene un messaggio firmato da De Marco. Il messaggio riporta Contenuto nel baule, anche un orologio che segna le 11.55 del 18 e ancora una volta. Un codice. Che sia questa dunque la chiave di decriptazione di cui parlava De Marco?